Si è creata da subito una intesa molto bella con Alessandra, siamo molto simili. Ho una passione per Lino Guanciale, io mi trovo benissimo con lui, ho un grandissimo collega. E questo ha creato un po' una certa magia, ecco. E invece? E arriva! Una cosa divertente effettivamente e anche imbarazzante era la gara. Ogni giorno, fra me e la Mastronardi, per raggiungere il set. No, è un po' di pane. No, no. Ma non prendete assolutamente la niente, per questo perché c'è Lino Guanciale. E prima, quando scendevamo, facevamo a chi arriva prima, o ai bambini, dell'elementare. La Mastronardi sta benissimo. E' un'overdosa di questi due, mi raccomando. And I think, I think, I'm gonna put it in all my rhymes, baby. Cause with you, I'm gonna do, quite a few things that I never thought I would do. Your name, your name, your name, would be a good tattoo. Yeah. Would be a good tattoo. Sono fatti adesso che non c'è, mi manca, porca misena. Vedete, mi potevate mettere un cartonato della... Sì, mi potevate mettere un cartonato della... Grazie a tutti